bentornati su Lilian Gore oggi faremo il make up di una youtuber americana iscriviti al canale e lascia un like partiamo con la bell cop presto farò un video dove vi mostrerò come farla per fissare la bell cop utilizziamo il mastice per make up e asciughiamo bene le parti da fissare con il coro d'alto quindi applichiamo il fondotinta che ci servirà come base ora applichiamo l'ombretto giallo in crema solo nelle parti desiderate per completare il trucco base applichiamo un ombretto arancione in crema con l'eyeliner nero iniziamo a definire le maculature sul volto a 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 colorate grazie per la visione iscriviti al canale metti un like e lasciami un commento bye a